X7 apriammi oh no Griss Park s'è nata con un'idea latineggiante creare, diciamo, sincopi, un po' di un movimento melodicamente 3 4 1 2 una singola idea e per mesi sono solo quella cosa lì, sempre, questa è stata una di quelle come anche Vital Reaction, il titolo arriva da una ripartita di un mio amico carissimo conosciuto in Sri Lanka, Mr. Jerry, ne avrà parlato anche voi, un grande eroe, un esempio di vita, insomma ha fatto un sacco di cose, ha costruito case, templi, ospedali per i tivetani, rifugiati in India, insomma ha fatto grandi cose, era un giornalista e l'ho conosciuto mentre ero in Sri Lanka, ho fatto 4 mesi lì e sono tornato, qualche mese dopo mi ha detto che non c'era più niente a fare per lui perché ha preso un tumore al pancreas, quando arriva il momento della morte è un'altra cosa, cioè nel senso, arriva, basta, non puoi farci nient'altro, quindi siamo un po' tutti rapiti dal destino, da questo mistero chiamato vita, no? Il destino, siamo un po' tutti stuprati da questa dimensione inevitabile, Kidnapped, by faith. Vediamo questo gruppo da fine e pian piano cresciamo Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.